Consueta conferenza stampa di metà settimana in casa Pro Vercelli. A prendere la parola è stato il difensore Filippo Berra. Questo un estratto delle sue dichiarazioni. Adesso abbiamo ritrovato lo spirito dell'anno scorso, che ci permette di avere maggior fiducia e soprattutto di ottenere i risultati. La mentalità è simile a quella della passata stagione, è cambiato solo il modulo che ci consente di esprimerci al meglio, Carpi. È sempre stata un'ottima squadra, anche se ha cambiato qualcosa rimane un avversario difficile da affrontare. Hanno un modo preciso di giocare, che non è cambiato negli anni. Dobbiamo farci trovare pronti e fare risultato. Classifica. Tutte stanno andando molto forte, la classifica è cortissima. Dobbiamo correre più degli altri e portare a casa più punti possibili.